Milano Fashion Week 2017 Milano Fashion Week 2017, i parti più esclusivi della settimana Mercoledì 20 settembre avrà inizio la settimana più esclusiva per gli appassionati di moda e di vita mondana, la Milano Fashion Week 2017 . Tra sfilate e eventi blindatissimi, la città sarà invasa da top model, giornalisti provenienti da tutto il mondo, VIP e starlette più o meno famose. Tanti parti esclusivi dove poterli incontrare, scopriamo quali sono e dove si svolgeranno. . . Mentre in giornata si svolgeranno le sfilate di Gucci, Alberta Ferretti o n. 21 di Alessandro Dallacqua, la sera si svolgeranno due dei parti più esclusivi della Milano Fashion Week 2017, parliamo del cocktail party di The Squared 2 Be Ecol Benice, in via Ceresio 7 e lo Swarovski Crystal Wonderland Party in via Alessandro Volta 28 a Gerno di Lesbo. . Entrambi gli eventi sono solo su invito, quindi saranno solo pochi fortunati a poter assistere agli esclusivissimi party. . Dopo le esfilate di Max Mara, Casa Dei, Fratelli Rossetti, Fendi, Hogan Moschino e tanti altri importantissimi marchi, sia italiani che internazionali, grande appuntamento in piazza Gaia Aulenti X per linaugurazione del Fashion Hub Market, un evento organizzato dalla Camera Nazionale della Moda Italiana. . Anche per questo party è necessario l'invito. . Venerdì è la giornata di Giorgio Armani, Trizia, Etro, Roberto Cavalli, Versace e, sempre per chi ha l'invito, alle 18.30 è la volta del cocktail party to fall off di John Richmond, in via Senato X. . . In contemporanea, in corso Magenta 65, Alviero Martini presenta la sua nuova collezione in un garden party molto esclusivo. Sabato 23, i fortunati possessori dell'invito potranno assistere alle sfilate di Bottega Veneta, Jimmy Shaw, Borsalino, Antonio Marras, Blumarine e Ermanno Cervino. . Alle 19 è la volta della presentazione di Franca, Shows and Creation, il film documentario che Francesco Carrozzini ha dedicato alla madre Franca Sozzani, storica direttrice di Vogue Italia scomparsa lo scorso anno. . Diversi parti della seconda parte della giornata, alle 19.30 le L Cocktail Party, in occasione della mostra L 30 anni, che si tiene dal 19 al 26 settembre. . . In via Tortona 58, invece, alle ore 22, è il momento di scatenarsi con i di lunga internazionali ospiti dell'iceberg Since 1974 party. . . Domenica spileranno, tra gli altri, Laura Biaggiotti, Mila S.C.H.O. con D'Eresi N, Trussardi alle 19 è il momento del primo Grey & Carpe Fashion Awards Italia, organizzato dalla Camera Nazionale della Moda in collaborazione con Ecoage di Livia Firth. . . L'evento si svolgerà presso il Teatro alla Scala e per la prima volta stilisti emergenti e grandi Maison saranno riuniti per la causa comune dell'eco-sostenibilità. . . Nel corso della serata, che vedrà la partecipazione di molte celebrities internazionali, verranno premiati cinque finalisti tra i giovani talenti che hanno creato look nel rispetto dell'ambiente. . . La presentazione del Grey & Carpe Fashion Awards è affidata Livia Giuggioli Firth, moglie dell'attore Colleen Firth, tra le organizzatrici dell'evento. La giornata conclusiva della Milano Fashion Week 2017 vedrà sfilare alcuni nuovi talenti della moda, come da Izzy Shelley, Ujo e Sena. . . . . . . . .